La caduta di Boris Johnson è stata accolta nell'Unione Europea con una certa soddisfazione, ma solo a porte chiuse. Tuttavia, a Bruxelles nessuno crede che le cose possano davvero cambiare, dal momento che il partito conservatore britannico rimane unito sulla Brexit. È anche vero però che le relazioni tra Bruxelles e Londra hanno toccato il punto più basso, dato che Johnson ha sempre minacciato di scavalcare il protocollo sull'Irlanda del Nord. Ci sono due aspetti. Da un lato la sua personalità, che è incoerente, mente, non mantiene gli accordi. È molto difficile per tutti trattare con lui, compresi i suoi ministri, e questo non è un problema solo di Bruxelles. Dall'altra parte ha avuto un approccio molto combattivo sulla Brexit, perché ha capito che per tenere insieme la coalizione del partito conservatore e gli elettori è necessaria una linea dura su questo tema. Il modo in cui lui l'ha interpretato è stato quello di essere il più aggressivo possibile verso l'Unione Europea. Tra i possibili candidati a sostituire Johnson ce ne sono molti che potrebbero optare per un approccio più pratico, ma non tutti. La ministra dell'interno, Priti Patel, è probabilmente la persona più interessata allo scontro e quindi sarebbe la candidata peggiore dal punto di vista dell'Unione Europea. Il candidato migliore è più aperto. Molti di loro potrebbero comunque finire con un ritorno a relazioni normali. La Commissione Europea ha risposto con un no comment alla domanda di Euronews sull'uscita di scena di Johnson. Dal canto suo, la Repubblica cieca, il paese che al momento guida il Consiglio dell'Unione Europea, nutre qualche speranza. Per quanto riguarda le relazioni tra Regno Unito e Unione Europea, spero che non abbia una seria influenza sulla situazione attuale e spero che il Regno Unito si attenga al diritto internazionale. I rapporti di Johnson con Bruxelles sono sempre stati burrascosi, anche quando era corrispondente del Daily Telegraph. È stato uno dei grandi promotori della campagna pro-Brexit e da quando è arrivato Downing Street la sua permanente messa in discussione degli accordi non ha fatto altro che peggiorare le cose. Pochi sentiranno la sua mancanza a Bruxelles.